Lavoriamo con Musumeci che sta governando e governerà ancora per un anno e mezzo e vediamo di farlo al meglio. E poi abbiamo l'ambizione di essere il primo movimento politico siciliano del centro-destra e di poter essere quello che indicherà il prossimo governatore. Ma, ripeto, siamo ad agosto 2021, il governatore si chiama Nello Musumeci, abbiamo una squadra di parlamentari regionali di assoluto livello, se se ne aggiungeranno altri saremo ancora più forti, quindi alle prossime candidature ci penseremo più avanti. Se qualcuno ha il sostegno di tanti siciliani vuol dire che evidentemente lavora bene, dà fiducia, questo a livello generale. Quindi noi abbiamo bisogno di gente in cui i siciliani credono.